Oggi alle ore 17 presso la sede della Ruzzoreti a Teramo è previsto un vertice sul caso Gran Sasso. L'incontro mira a discutere come procedere dopo l'intorbidimento dell'acqua captata sotto il traforo che ha bloccato le perforazioni previste dal commissario straordinario Pierluigi Caputi. Sì, ci sarà un tavolo tecnico presso la Ruzzoreti stato convocato dalla ASRI Teramo proprio appunto per fare un attimo il punto sulla situazione. Ovviamente per accertare le cause bisognerà fare gli approfondimenti, come ho già detto, con ditte specializzate nei prossimi giorni, ma oggi insomma dobbiamo un attimo coordinarci, ci dovranno restituire credo il cantiere da quanto ho letto sui giornali e quindi insomma dovrebbe concludersi questa fase delle perforazioni. Lo scenario che si profila è la consegna dei luoghi alla Ruzzoreti concessionaria delle reti idriche nel punto dove si è verificato il problema. Questo significa che potrà essere riaperto il traforo? Allora, se la decisione dipendesse dalla Ruzzoreti sì, noi non abbiamo l'esigenza di tenere il traforo chiuso, noi quando abbiamo fatto le manutenzioni o comunque gli accertamenti presso il traforo lo abbiamo fatto sempre coordinandoci con le autostrade, quindi magari facendo una chiusura d'occa notturna per permetterci di entrare nei pozzetti, ma noi non abbiamo l'esigenza di avere il traforo chiuso per diversi giorni. La società acquedottistica Teramana ha voluto precisare che non c'è mai stato il pericolo di contaminazione dell'acqua delle condotte. Non è mai entrata in contatto l'acqua torbida, diciamo così, tecnicamente con l'acqua che noi distribuiamo nella rete idrica. Sono due momenti diversi dalla captazione, quella in cui l'acqua viene, si dice, captata, cioè presa dalla montagna e quella in cui viene portata nelle tubature e quindi nelle abitazioni. Di mezzo, fra questi due passaggi, ci sono tutte le nostre sonne, tutti i nostri sistemi di sicurezza, l'acqua è andata immediatamente a scarico, addirittura prima che la torbida salisse a quei livelli, cioè appena sono state prive a Visaglia, quindi non è stato neanche necessario arrivare a quel livello di soglia per farla scaricare. E questo è il risultato di milioni di euro di investimenti che la Ruzzoletti in questi anni ha prontato proprio per tutelare la cittadinanza da eventuali commissioni che ci fossero sul Gran Sasso. E questo va detto, sia Gran Sasso Acqua, cioè l'acquedotto Aquilano, il versante Aquilano, che noi in questi anni abbiamo lavorato tantissimo per mettere in sicurezza l'acquifero e i risultati ad oggi si sono visti assolutamente. Un intervento che sta portando inevitabilmente a perdere un gran quantitativo di acqua presente nel bacino idrico. Purtroppo questa è la cosa più grave e abbiamo buttato via 60.000 metri cubi d'acqua, un quantitativo veramente ingente, considerando il periodo storico, la siccità e tutto quello che ne conviene. Per questo che per il futuro bisognerà sicuramente cercare un approccio diverso perché mettere in sicurezza l'acquifero non può significare mettere a rischio l'acquifero.